Magari non sembra, cari amici, ma la nostra carissima Italia ha una tradizione a livello gastronomico che è amato, che è invidiato anche dagli altri paesi, con dei prodotti d'eccellenza che sono il vanto proprio del nostro territorio. Tuttavia, essere fedeli alla storia non significa però rimanere fermi né tanto meno, rifiutare o chiudere gli occhi davanti all'innovazione, che quella va sempre avanti. Ha maggior ragione se consideriamo la prospettiva che vede la terra sempre più popolosa, con un potenziale rischio di carenze alimentare, e l'adozione a tavola di certi cibi infatti non risponde solo alle tendenze del momento, ma una vera e propria necessità, cioè una cosa di cui abbiamo proprio bisogno. C'è poco dunque da storcere un attimino il naso di fronte all'ultima decisione dell'Unione Europea che ha approvato l'utilizzo della farina di grillo. Anche se non siamo pronti a questo tipo di alimenti perché ci sono gli insetti di mezzo, ma gli insetti e farine ricavate da essi diventeranno sempre più comuni nei nostri piatti. Insomma, ci dovremmo fare l'abitudine. E l'autorizzazione UE non fa che renderne più veloce l'immissione e conseguentemente la diffusione sul mercato comunitario. Gli organi europei, competenti in materia di sicurezza alimentare, che già avevano autorizzato l'uso in cucina delle locuste, hanno dato il via libera anche all'uso alimentare della farina ricavata proprio dai grilli. Potremmo così trovare in vendita il grillo domestico, proprio il nome scientifico, cioè quello preciso, cioè il loro vero nome è Accheta domesticus. Sotto forma questo di polvere parzialmente sgrassata lo potremo trovare. L'Unione Europea si è anche espressa in merito agli alimenti per i quali tale farina potrà essere utilizzata. Si tratta di cibi e preparati anche molto comuni, di quelli che ogni giorno portiamo a tavola o che conserviamo nella dispensa. A partire dal pane, dai panini, dai cracker, dai grissini, ma la farina di grillo potrà essere usata anche nella produzione di snack, come ad esempio le barrette, oppure, che ne so, i biscotti o miscele per altri prodotti da forno. Allo stesso modo questa farina potrà essere contenuta nella pizza, nelle salse, nelle minestre in polvere, nelle bevande, come ad esempio può essere anche, ma giusto per fare un esempio, la birra, nei preparati a base di patate e poi anche nei dessert, nei dolci, dolci, a base di cioccolato più che altro. Insomma, sarà difficile sfuggire a questa, non nuova perché già c'era pietanza, ma che verrà utilizzata sempre più spesso. Questo, signori, è tutto per questa notizia di assoluta curiosità. Vi ringrazio per l'ascolto, noi ci sentiremo come sempre alla prossima. Vi invito a venirmi a trovare, iscrivetevi se non siete iscritti, oppure seguite la pagina. Mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, sempre qua.